Il decreto prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti, ma prevede soprattutto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini che prevede per questi criminali di essere puniti con una pena fino a 30 anni di reclusione nel caso specifico ad esempio di Cutro, nel caso in cui muoiano delle persone durante una di queste traversate. E attenzione, elemento che io considero molto importante, il reato verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali, cioè per noi chi si rende responsabile di lesioni gravi o di morte mentre organizza la tratta degli esseri umani è perseguibile con un reato che noi consideriamo un reato universale. Significa non colpire solamente quei trafficanti che noi troviamo sulle barche, significa colpire anche i trafficanti che ci sono dietro. E per me questo è un elemento molto importante perché cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Noi siamo abituati a un'Italia che si occupa soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo, quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terraqueo. Perché vogliamo rompere questa tratta.